Non dobbiamo confondere i bimbo minchia che si fanno chiamare DJ con i DJ, zio porco confuso, perché poi a me mi si fondono i maroni in un modo esagerato. Il DJ è tutta un'altra cosa, i bimbo minchia sono proprio quelli che con il loro trattorino e con le loro console virtuali, visto che hanno i soldini del papà da comprare, si fanno il viaggio di essere dei DJ, ma un DJ non lo potete valutare in 30, 40 o 50 minuti perché fa gnigo gnago, gnigo gnago, zio porco distorto con tutti questi effetti che ormai sono capaci anche i gatti che ho in casa di farlo. Il DJ è tutta un'altra cosa, il DJ è uno che fa ballare per ore la gente e i bimbo minchia sono quelli, zio porco imbufalito, che hanno rovinato il mestiere del DJ e hanno rovinato tutto quello che è la discoteca vera e propria, zio porco imperativo e non vogliamo poi parlare dei PR che spostano la gente da una parte all'altra, bravi, ma poi si portano dietro i giochi bimbo minchia perché gli danno 50 euro e ci sono quelli che vanno a lavorare per 50 euro e hanno rovinato la professione del DJ, zio porco super determinato!